Foscarini, Sadler, Tress è stato un percorso che è partito da molto tempo e da lontano, un processo che controlliamo bene, ci è venuto la voglia facendo Tress di utilizzare questo processo per fare degli oggetti molto più contenuti. Adesso abbiamo fatto una cosa molto stirata, una specie di calza che usa questo sistema di avvolgimento, il rowing di fibra di vetro impregnati di resina eccetera. Fino a ieri l'abbiamo fatto con volumi molto grossi, qui abbiamo voluto fare degli oggetti molto più contenuti, molto più piccoli, decorativi in sé, ma anche decorativi perché ripetutamente totalmente messi in asse o un po' come un pixel progettuale, sarà spero un progetto interessante per i progettisti, per gli architetti eccetera, per fare delle composizioni insomma, perché questo cono molto stirato lo si può mettere in piedi, illuminare un soffitto o rovesciare, metterlo dal soffitto verso terra, illuminare dei tavoli o diventare una piantana che si può mettere in un angolo facilmente, richiama molto il portafiamma dei castelli, quelli fatti in ferro battuto o in sospensione e diventa un cono luminoso e un punto molto forte in una stanza. Voglio facendo tres abbiamo inventato un modo di fare la luce abbastanza unico. Grazie a tutti.